Benvenuti alle uscite di gennaio 2014, saranno brevissime e coincise, arriverà il 16 gennaio Earth Defense Force 2017, no no avete capito bene è 2017 anche se siamo nel 2014 per PlayStation Vita ed è un action game, il 17 gennaio arriverà Mario Party Island Tour per 3DS che è un action casual platform dove avrà protagonista il nostro amato idraulico, il 17 gennaio arriverà finalmente speriamo Rambo the Video Game per Xbox 360, PC, PlayStation 3 e questo è un action game che è stato rimandato non so quante volte però probabilmente uscirà, il 18 gennaio arriverà un platform, Pinias and Ferb, Quest for Cool Stuff per 3DS, DS, Wii, Wii U e Xbox 360, il 24 gennaio arriverà l'onda energetica, il re dell'onda energetica, Dragon Ball Z, Battle of Z per PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Vita, che ve lo dico a fa' questo è un pecchiaduro e siamo al 31 gennaio e arriverà Tomb Raider Definitive Edition per PlayStation 4 e Xbox One, ebbene sì, la nostra cara Lara arriverà anche sulla next gen, come questa versione è corretta, migliorata e arriverà a 1080 pixel e ci saranno tutti i contenuti extra e DLC, insomma chi se l'è fatto sfuggire nelle old console può benissimo acquistarla qua in tutta la sua meraviglia e con questa notizia vi saluto, anzi con questa ultima data vi saluto e arrivederci alle prossime uscite, ciao ciao!